Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana. Allora iniziamo subito alla grande, affidandoci al Signore, chiedendo a Lui tutto l'aiuto, tutta la benedizione, tutta la grazia necessaria, perché di grazia per vivere una giornata ce ne vuole tantissima, mille sono i motivi per buttarci a terra, per scoraggiarci, per deprimerci, ma noi ne dobbiamo trovare mille e uno per continuare la nostra missione, la vita e tutto ciò che dobbiamo fare. Sentite un po', la conoscete la storia dell'arcobaleno? Non la conoscete? Ve la racconto io. Un giorno scoppiò una lite furibonda tra i colori. Cominciò il verde. Ah, ma voi non capite niente, voi non valete niente, guardate il mondo, giratevi intorno, la terra, le colline, le montagne, gli alberi. Se non ci fossi io, che vita triste che ci sarebbe! E subito rispose il blu, ma tu non hai capito niente, tu pensi solo alle cose terrene, alza un po' lo sguardo verso il cielo, quell'azzurro che dona serenità e pace, e poi l'acqua che è alla base della vita, io sì che sono importante. Eh, inrompe il giallo e dite, voi due non avete capito un bel niente. Io sono il colore che dà la luce, che dà la gioia, che dà la felicità. Quando io splendo c'è la luce. Inrompe l'arancione timidamente. Io non sono bravo come voi, ma il mio colore è importantissimo. Io sono il colore delle zucche, delle carote, dell'arance. Do la vitamina alle persone, quindi li faccio stare bene. Ma neanche può finire il discorso che irrompe subito il rosso. Voi non avete capito niente. E il rosso è il colore importante, il colore della vita, del sangue che scorre nelle vene. Se non c'è il sangue che scorre nelle vene, non c'è la vita. Io sono importante. E risponde il viola. Vuole anche lui primeggiare. Io sono il colore della regalità, del manto dei re. Chi passa davanti a me si inchina. E risponde l'indaco. Io sono il colore del silenzio. Che meraviglia è il silenzio. Io sono importante. A un certo punto, durante questa lite, questa discussione, un tuono violentissimo, li rende tutti al silenzio. E che si stringono tutti l'uno all'altro e cominciano a dire, ma che succede? Ma che succede? E dal tuono una voce. Voi non avete capito niente. Voi siete importanti solo se camminate insieme. Solo se vi prendete per mano. Voi siete qualcuno se vivete in pace, gli uni con gli altri. E così, ogni volta che pioverà, ricordatevi che vi stenderete sul cielo per ricordare che gli uomini devono vivere in pace, nel rispetto di tutti, sempre. Qual è la morale di questa storia? non dobbiamo cercare di far prevalere il nostro essere, ma dobbiamo contribuire perché il mondo respiri la pace di Dio. L'uomo ha bisogno della pace. L'uomo deve vivere in pace, rispettando tutti. È solo dal rispetto che nasce l'amore. E l'amore fa nascere la fratellanza. Dio è Dio di tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Mentre vi mando un grosso abbraccio e un bacio fraterno, vi ricordo che alle 14.50 ci sarà l'esposizione eucaristica e la coroncina alla Divina Misericordia. In diretta sul canale YouTube Don Francesco, Cristofaro, è sempre in diretta e alle 18.20 il Santo Rosario a Maria che scioglie i nodi. So che questi video piacciono a tanti e voi mandateli a tanti perché tanti possano comprendere i messaggi che vengono dati. Ciao!